Buonasera Spalletti, facciamo più compleanti se poi le risposte sono così belle in campo, hanno avuto soddisfazioni al di là degli avversari che certamente magari in interiore hanno dato le avversari. Hanno lavorato in maniera seria, si sono preparati in maniera seria, hanno fatto una partita seria, una prestazione seria e un risultato altrettanto. Perché come ho detto prima, le stesse cose hanno fatto giocare la palla a velocità, hanno comandato la partita, li hanno un po' storditi a forza di non fargli trovare il posto dove aggredire, hanno fatto dei mesi e poi è diventato tutto più facile, perché quando li costringe a rincorrere la palla non ce la trovano, poi sono fatiche che si sentono nei muscoli e poi fanno la differenza. Poi abbiamo anche riaggredito bene, quando abbiamo perso palla non abbiamo riaggredito, con i centrali siamo sempre stati addosso a Albeg in maniera da anticipo e tuttura, anticipo e copertura per questo. Molto bene. Ci sono giornalisti lumani che necessitano la traduzione? Andiamo avanti senza traduzione, grazie. Vado io? Buonasera Cristela. Buonasera. Sì, è una partita sicuramente molto buona, ma poi anche giocata sicuramente anticamente bene la tua spada. Io però le voglio fare una domanda, già io l'hanno fatta, però io le faccio sui turbe. Questo ragazzo che un po' il pubblico ha un po' non criticato, però insomma gli sta vicino e poi lo abbandona, ecco se lei sta diventando un vero e primo caso, o lei crede che questo gioco si possa ovviamente riprendere ed essere all'altezza di questa squadra? Aveva bisogno solo di un po' di fiducia, aveva bisogno di un po' di sostegno e secondo me stasera lui ha ricevuto il sostegno. Non è stato abbandonato in alcuni momenti e che non è stato fortunato nella ricerca della soluzione, allora è stato più un senso di dispiacere quello che ha poi incorniciato quel momento lì. Ma la ricerca è stata quella di sostenerlo, si è sentito e lui ne ha trovato beneficio perché ha fatto una buona partita stasera, nel senso di niente, nel primo tempo si è perso un po' di tempo, nel secondo tempo ha fatto un buon secondo tempo, sarebbe stato un grandissimo secondo tempo, una grande partita se si avesse fatto quei gol lì. Invece lì è ricaduto nello stesso errore di prendersi quella responsabilità della cosa che sa fare meglio, perché poi quella di lasciare andare una cartella è la cosa che sa fare meglio perché ha un tiro della stante, invece non si è fidato e ha bisogno di un po' di tranquillità e di sentirsi la fiducia addosso, però è un bravissimo ragazzo, un grande arreda e noi ci contiamo. Salve miss, ci volevo un risultato positivo ed è arrivato con i gol e con alcuni momenti anche di gioco. Volevo che spedessi due parole per Paredes, che mi sembra oggi abbia avuto un ritmo diverso dal solito, e comunque va alloggiato credo perché è un ruolo delicato quello, e poi potrò appuntare il mister su una cosa che ha detto anche il tecnico dell'altra Giorgio, ovvero mi è piaciuto, ha detto, la Roma grande in avanti, mezzo al campo, però dietro ho visto una fase difensiva che non mi ha convinto, ha detto il tecnico avversario. Ecco, volevo queste sue analisi. Grazie. Paredes è un calciatore che ogni volta l'ho fatto giocare, ha fatto vedere di essere quello di cui abbiamo parlato in precedenza, di quando poteva cambiare anche maglia, perché c'erano dei club che lo volevano, perché lui ha qualità, ha continuità, ha forza, ha piede, perché anche lui è stato sfortunato su tutti i tiri da fuori, perché ha lasciato andato bordata e devastanti. Poi ha questa qualità di arrivarci scivolata sulle situazioni, e anche nella scivolata ha delle scelte di qualità nel chiudere poi le traiettorie di passaggio, per cui ha fatto sicuramente bene. la palla la sa far girare sicuramente la sua qualità. La fase difensiva, eccetto quella volta dove gli è stata messa la palla dietro il centrale di parte a Manolas, dove Alibi che è andato a tirare ha fatto la parata di Alisson. Mi sembra che abbiano fatto tanto, anzi, secondo me hanno fatto bene, perché sicuramente era abituato a peggio. E poi quando hanno tentato di rinnescare, perché era un po' il loro disegno di partita, riconquistare, giocare su di lui, perché questo è un calciatore questo davanti, è uno che fa salire la squadra, poi è uno che è fisico, va subito, lui non guardava mai la palla, andava sempre prima a contatto fisico con Manolas, andava dalla porta a Manolas e poi si preoccupava di appoggiare la palla e di farla cascare lì. Però non ci è quasi mai riuscito, perché gli hanno arrivato quasi sempre. non trovo grandissime sbavature, anche perché Gesù ha fatto bene la fase difensiva a sinistra, gli avevo chiesto di dare solo sostegno a Perotti senza andare poi a fare solo posizioni, che da una parte si spingeva di più, da una parte si difendeva meglio e si ricreava sempre più in sostanza la linea difensiva. Questo lo doveva fare lui e compito assorto. Grazie. Buonasera. A proposito della fase difensiva, lei oggi è tornato a giocare con un terzino di spinta e un terzino più di copertura. Volevo sapere se in questo momento, a livello di equilibrio, è l'idea che comunque ha provato per restituire un po' più di compattezza alla squadra anche nelle prossime partite, perché questa magari non era così esemplificativa. Sì, da quella parte lì sicuramente la sostanza è venuta fuori in questa maniera, che lui ci ha dato un contributo, però poi avevamo quattro giocatori molto offensivi dentro con Francesco Mentrequartista e si è dato da fare a corso, però, insomma, la squadra era ugualmente di quelle che aveva la trazione offensiva. Ecco, bisognava fare... Gli andavano proprio dei quattro dietro. Quattro dietro gli ha dato una mano, gli ha dato una mano, gli ha dato una mano stolta, gli ha dato una mano Valetes, perché sono sempre rimasti lì a costruire, ma difficilmente poi siamo andati a giro per il campo a tentare di perdere l'equilibrio, per cui già loro due hanno dato una grandissima sostanza. Gesù, come dicevo prima, ha attaccato pochissimo, ha sostenuto Perotti lasciandogli quella piazzola da tre quarti fino alla bagnerina, libera per lui per potersi muovere e per poter fare corto lungo quanto gli pare, con la palla da prendere sui piedi. Però secondo me hanno fatto bene, ma non ha se è facile. Sì, Gesù ci ha dato una mano. E' sicuramente così, che se si fa giocare a lui c'è un po' più di sostanza, però la sostanza se poi c'è un tersino che spinge e la palla si tiene in noi e costringe l'altro a fare difensore, e la squadra fa bene uguale, si ritrova gli stessi numeri di compattezza e di forza a livello difensivo. Ecco, dipende se ci riesce a sviluppare quelle che sono le nostre qualità. O è chiaro, tersino destro aperto, palla sulla destra, tersino destro pinge, tersino sinistro da aperto comincia a chiudersi e comincia a venire dentro il campo. La palla torna dietro sui centrali, tersino sinistro si apre e comincia a prendere la strada della bandierina, quell'altro prende la strada di casa. E' sempre poi uno va un po' di più, uno sarà due mediani sotto palla, minimo quattro, spesso cinque sotto palla per la reaggressione alla perdita di palla della prevenzione al tentativo di ripartenza. In questo però, poi, provare a creare, a volte i metri si perdono di vista e si allungano, diventano metri di un metro e mezzo anziché di cento centimetri. Faccio riferimento ancora a quanto appena detto nella conferenza a Sama. Il mister, si è vero, ha fatto questa carbata critica alla difesa, però ha detto che la Roma è proprio un'altra cosa rispetto alle altre squadre. Quindi Girone è come se fosse a tre e la Roma un'altra cosa. Lei si riconosce nel ruolo di strafavorite? Sì, sì, ma a me che potete dire che vi vale? Nel senso che a me piace la mia squadra e bisogna sempre giocare per vincere e per far vedere quello che è il nostro valore. Quelli dell'Inter la versano uguale. Soprattutto quelli dell'Inter la versano uguale. Poi c'è da giocarle le partite. Ci sono discorse e c'è da giocarle. E diventa pericoloso soprattutto, sicuramente siamo migliori di quelle due squadre che abbiamo visto. Io ho visto queste due e sono d'accordo con lei. Noi siamo più forti di queste due. Però poi c'è da giocarle le partite. C'è da farle vedere. C'è da prenderle seriamente. C'è da dover vincere poi quello che è l'impatto con il nostro valore in generale. perché a volte, come ho già detto, ci viene un po' di piedino. Ci crea un po' di peso psicologico il confronto in Europa e si vede poi che ci sono squadre forti uguali che trovano problemi anche loro. Per cui non è niente scontato. Siamo più forti e per ora non lo abbiamo fatto così vedere nella partita da Dan. Nella partita, nella mia partita, questa partita, qui sì. Vediamo le altre però dopo che ci sei giocato si saprà qualcosa di più. Facciamo l'ultima da Dan. Il 4231 è una cosa che si riconosce e che diventa un po' più riconoscibile. perché è lo stesso discorso dei cinque, è lo stesso discorso del mediano-bassa e le due mezzali. Quando gli altri iniziano l'azione con il mediano-bassa e le due mezzali, tu devi buttare fuori una mezzala che aiuta la prima punta nell'aggressione, perché da solo non la prende lì. Ma che succede? Quando la palla è sulla tua destra, comincia la mezzala destra. Comincia la mezzala destra, poi portano la palla a sinistra, esce la mezzala a sinistra e la mezzala a destra dovrebbe rientrare. Per rientrare a rifare coppia non il mediano. Quando poi la palla va da destra, sinistra e destra, poi ti ritrovano tutte e due le mezzali che rimangono a metà strada. E davanti alla difesa ti rimane uno soltanto. E quelle due piazzole, sia fra lui il terzino destro, fra lui il terzino sinistro, non sono facili da coprire. E devi sempre andare a smucchiare poi la linea difensiva. Invece così è più riconoscibile, perché i tre quarti va sempre ad aiutare la punta. E quei due sono già posizionati senza doverci scendere in quella posizione. Perché salire e andare ad attaccare è facile. Quando poi da là devi scendere, devi abbassarti per rifare la coppia dei mediani, quello è più difficile da fare. E soprattutto nel giro palla degli avversari a volte poi ti porta ad avergli tutti e due fuori. I portieri fanno dei giochi privati. Giochi privati? Ho spiegato venti volte, non so più come dire. Se fa meglio Alisson in allenamento e quell'altro fa male in campionato, faccio ora. Scelmi ha fatto molto bene. Lui stasera ha fatto altrettanto bene. Ma non è detto che sia così per sempre. Perché? Perché sono due portieri forti. E in altri ruoli ho due giocatori forti. E è cambiato il calcio da quando si faceva prima. Ma io ho bisogno di tranquillità per giocare 25 partiti. Sì, anche io ho bisogno di venti campionati per vincerne uno. Siamo tutti d'accordo. Meritare venti campionati. Uno più un po' lo vinco. Va bene? Grazie. Grazie.